nome christian merli simone fagioli terza c età e tanti ho perso il conto 43 età 37 36 36 ancora nato a trento a firenze cibo preferito tutto poche sono una volta una volta non tutto adesso mangio un po di tutto purtroppo cibo preferito spaghetti ragù canzone preferita non ho non ho delle grandi preferenze musicali e ti dico non saprei sceglierla e non me ne viene in mente adesso in vacanza mare o montagna montagna più spesso una volta ogni tanto mare mare bionde o brune 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 venev senna o schumacher villenev per sempre schumi prima auto stradale da peggio e no scusami la fiesta turbo golf prima auto da gara peggio 205 rino clio williams auto da gara del 2015 non lo so ancora neanche io so che un 3000 però non so che macchina sarà norma zaitac pirelli percorso italiano preferito è difficile però con lo spino ho sempre avuto molto feeling diciamo che mi escono le cose con molta facilità altra bella domanda non ce l'ho vittoria più bella come fai a dirlo non lo so quella che deve arrivare l'ho vittoria più bella il primo campionato italiano obiettivo 2015 obiettivo 2015 riuscire a abbattere qualche volta il re delle salite anche se sarà sempre più difficile però ci proviamo vincere sogno nel cassetto con la stessa risposta di prima riuscire una volta ogni tanto a metterli le ruote davanti paese pic imitaci il suono del tuo prototipo sportivamente parlando il tuo pregio e il tuo difetto ma forse sono come pregio essere istintivo riesco sempre a districcarmi da situazioni magari un po difficili come difetto magari di essere un po troppo irruente ecco per queste macchine andrebbe usata forse una guida un pochino più più pulita guida precisione difetto sì che correre troppo e del tuo avversario pregio che è veloce un difetto che è veloce salutalo ciao Cristian salute lettori di salita stiledivita.it salita stiledivita salita stiledivita.it ciao a tutti ciao